eccomi qua avete visto il perfetto orario sono stato bravo ho anche aumentato la qualità video ho trovato la mia webcam in hd così mi potete vedere bene anche se sono assonnato ma qualità sicuramente migliore dell'altra volta e vediamo insomma questa volta quanti siamo per questo tema che avete scelto anche questa volta come l'altra in larghissima maggioranza cioè appunto il tema del sesso magari qualcuno avrà pensato che è un tema non lo so non adatto un tema di cui bisognerebbe in qualche modo evitare di parlarne in modo così aperto in realtà io penso sia esattamente l'opposto infatti è uno dei temi che ho spesso trattato anche sul canale senza nessuna vergogna e devo dire che io negli anni ho perso tantissimi tabù riguardo al sesso nel senso che magari avendo anche io avuto un'educazione come tutti molto attenta a questa tematica dove magari mi si impediva di ascoltare magari giustamente anche in tv parlare di questa tematica proprio perché in tv se ne parla in modo becero sono cresciuto con tanti tabù e invece in questi anni devo dire che non ho più molti problemi a parlarne ne riesco a parlare tranquillamente non la vivo più come un tema di particolare difficoltà quindi insomma sono felici che l'abbiate scelto e non sono come dire impaurito come magari qualcuno ha detto di toglierlo a trattare anzi mi piace molto come tema e niente come l'altra volta la live si strutturerà nel modo che decidete voi nel senso che io posso parlare anche per ore dello stesso argomento però voglio guidarmi con le vostre domande perché sono comunque interessanti interessanti non solo domande ma anche mi piace sentire il vostro parere ovviamente il limite è quello della chat però chissà che un domani magari non troveremo uno spazio diverso da youtube dove poter dialogare meglio ma per adesso vediamo come vanno queste live del lunedì del lunedì sera che prometto che riterrò con buona costanza sto parlando magari in attesa che arrivi un po' di persone no dicevo che appunto sto tenendo in qualche modo voglio tenere la frequenza quindi tutte le domeniche proporrò il sondaggio nel gruppo questa volta ho incluso anche argomenti un po' più di natura generale come videogiochi manga che però in realtà possono essere trattati sempre in chiave psicologica comunque sempre in modo più approfondito non per forza appunto discutere di quali sono i nostri anime preferiti ma capire anche qual è la le dinamiche dietro degli anime però insomma il sesso è sicuramente un argomento che come la depressione avete scelto secondo me perché comunque è un qualcosa che si fa invece molta più fatica a parlarne nella società e questo determina tutta una serie di problematiche che magari anche stasera andremo a vedere ciao ciao a tutti ragazzi vedo che c'è tanta gente che c'era anche la prima live quindi insomma stiamo incominciando a consolidare un po' il gruppo già in questa seconda live no dicevo sostanzialmente che io appunto penso e l'ho proposto anche in altri miei video che il sesso dovrebbe essere una materia insegnata assolutamente a scuola cioè l'educazione sessuale oggi non è assolutamente considerata tra le materie fondamentali della scuola eppure il sesso per noi come esseri umani ha un'importanza fondamentale l'ha in senso proprio genetico nel senso che ovviamente è il nostro modo per mandare avanti la specie quindi abbiamo tutta una serie di istinti potentissimi che ci portano in questa direzione lo è diventato enormemente a livello sociale a tal punto che a volte la pressione sociale dello status che si lega al sesso supera e va in qualche modo anche a sopravanzare quella che è la pressione fisica quindi quella istintiva e questo secondo me è una cosa molto interessante perché ci fa capire come molte delle nostre pulsioni, molti dei nostri bisogni sono oggi svincolati da quelli che sono i bisogni fisici ma appunto passano su, si spostano su un piano diverso che è quello della realizzazione personale abbiamo visto anche in altri video per chi mi segue che io ho citato più di una volta la piramide di Maslow dei bisogni dove alla base ci sono i bisogni primari quindi quelli di sopravvivenza e poi a scalare i bisogni diventano sempre più estratti fino ad arrivare a quelli di autorealizzazione e soprattutto per i maschi ma ovviamente anche per le femmine ma soprattutto per i maschi l'autorealizzazione passa molto attraverso anche le proprie competenze sessuali la propria percezione che abbiamo di noi stessi e di conseguenza anche riflessa negli altri perché poi la concezione che noi abbiamo di noi stessi è sempre in qualche modo un come noi ci percepiamo percepiti dagli altri quindi è sempre comunque c'è sempre una forte componente di riflesso quindi per noi soprattutto appunto maschi e torresessuali il sesso si lega allo status allo status e quindi all'autorealizzazione personale realizzazione personale è inscindibile da una vita sentimentale appagante e felice secondo me è vero è vero penso io sono d'accordo infatti avevo discusso tra virgolette cioè avevo ribattuto ad una ragazza nel gruppo nel vecchio gruppo facebook che sosteneva insomma che non capiva perché il sesso fosse così centrale nelle nostre vite perché in fondo lei diceva ma il sesso non è come il cibo o l'acqua o l'aria cioè non è necessario per vivere alla fine è solamente un vezzo cioè una cosa che uno fa se vuole di fare un hobby cioè sostanzialmente lei lo paragonava a una cosa in più in realtà io non la penso così perché il sesso non può essere visto come non lo so un videogioco o una cosa che faccio perché ho voglia di fare e basta ma il sesso è una cosa che si fa legare incredibilmente alla nostra psiche perché noi siamo appunto degli esseri che sostanzialmente mirano alla procreazione perché uno dei nostri obiettivi cioè il nostro obiettivo forse istintivo per eccellenza è quello di procreare e questo determina il fatto che il sesso comunque incide pesantemente sui nostri comportamenti sia che ce ne accorgiamo sia che non ce ne accorgiamo sia che lo fa in modo esplicito sia che lo fa in modo implicito sia che lo fa in modo diciamo più violento sia che lo fa in modo inverso attraverso la repressione sarà possibile recuperare la live in un altro momento verrà cancellata no sarà possibile rimangono sul canale le live ovviamente il vantaggio di partecipare live è quello di poter interagire quindi guidare anche un po' la conversazione riguardo la perdita di questi istinti sessuali dovuto a recludersi in camera come si può risolvere e quali sono esattamente le cause allora la perdita degli istinti sessuali con l'ikikomori in effetti è una delle strade possibili l'altra probabilmente è la masturbazione compulsiva o comunque non è detto per forza compulsivo ma generalmente quando questo avviene per tutti non si riesce ad avere rapporti sessuali si ricorre banalmente all'autoerotismo e questa è una cosa di cui non bisogna vergognarsi perché comunque tutti lo fanno e questo porta appunto da una parte l'ikikomori a dover sfogare in questo senso i suoi impulsi all'altra a perderli anche perché secondo me gli impulsi sessuali con l'isolamento si perdono a causa dell'apatia e talvolta della depressione soprattutto quando a causa della depressione si prendono anche dei farmaci in particolare gli antidepressivi che sono assolutamente contrari al meccanismo dell'eccitazione quindi un antidepressivo ha tra le sue controindicazioni principali un calo della libido spesso e anche problemi disfunzionali erettili più o meno evidenti a seconda del farmaco però diciamo che molti antidepressivi e in generale anche la depressione incidono e vanno a intaccare quelli che sono i meccanismi dell'eccitazione che sono meccanismi primordiali particolarmente spontanei e del tutto come dire privi di meccanismi logici un secondo che vi state facendo un po' di domani tutti insieme le vado a recuperare cerco di rispondere a tutti non solo l'educazione sessuale manca ma anche l'università dove si va a studiare come educatore si parla pochissimo quasi nulla del sesso in modo quasi timido è vero è vero questo credo sia il tema principale cioè perché il sesso è così un tabù cioè perché quando uno parla di sesso si vergogna così tanto tant'è che fin da piccoli ma non da piccolissimi io mi ricordo ancora le superiori dove magari si era già più grandi bastava che si pronunciasse la parola sesso e scoppiavano delle risate vergogna imbarazzo e questo non è una cosa normale cioè non è che i ragazzi i bambini spontaneamente sono imbarazzati dal sesso l'imbarazzo che suscita il sesso cioè anche magari leggere la parola sesso all'interno di un che ne so di un decontestualizzato cioè non indicato sesso come rapporto sessuale ma anche come appunto genere questo provoca spesso risate imbarazzo perché non perché è una cosa fisiologica ma perché è un tabù e quindi se i ragazzi non ne parlano con i genitori che non gli spiegano cos'è il sesso e come bisognerebbe farlo e perché qual è il suo scopo eccetera il sesso diventa sostanzialmente qualcosa di cui vergognarsi perché insomma è qualcosa di cui non si può parlare e siamo fatti per procreare non riuscire a farlo porta un senso di inadattamento mostruoso e può avere conseguenze disastrose questo secondo me è un altro punto interessante nel senso proprio perché abbiamo detto che il sesso non è un pezzo cioè non è un qualcosa che uno può o non può fare ed è uguale ma è un istinto fortissimo che nonostante non ci porti a morire come può darsi non mangiare ha delle ripercussioni psicologiche fortissime e quindi sia fisiche ma fisiche minori secondo me perché comunque fisicamente c'è la possibilità ovviamente di proprio come dire usare l'autoerotismo per sopperire al bisogno magari appunto di non è la stessa cosa ovviamente ma la sensazione di scarico dell'ormone di insomma di piacere comunque in qualche modo è sopperibile potentissima è la frustrazione come dire anche sociale secondo me potentissima è il fatto di non poter dare sfogo socialmente a un proprio istinto perché ci sono tutta una serie di problematiche alla base che magari andremo a vedere in questa live più nel dettaglio che rendono l'approccio sessuale e il rapporto sessuale in generale la relazione sentimentale anche a 360 gradi ma senza andare sul sentimentale banalmente la relazione sessuale particolarmente complessa nella società di oggi e la complessità nasce sostanzialmente da tutto quello che diciamo spesso circa le pressioni ovvero dalle alte aspettative che ci sono che noi percepiamo esserci da parte degli altri e che noi stessi quindi ci interiorizziamo e quindi abbiamo su di noi un secondo stavo leggendo una domanda ma mi è sparita a proposito di ciò si è perso molto tempo e non si è fatto esperienze sessuali secondo te si riflette nei modi di fare il corpo parla le ragazze lo notano sì sì lo no l'inesperienza sessuale è impossibile da nascondere non è giusto nasconderla nel senso che comunque è una cosa che è riflesso di una difficoltà caratteriale spesso e quindi nel senso si può ovviamente non drammatizzare secondo me questo non dovrebbe essere drammatizzato mio dio sono vergine oppure mio dio non sono molto bravo eccetera eccetera non bisogna drammatizzare perché comunque il sesso a livello anche puramente diciamo edonico quindi non per la procreazione quindi il sesso originalmente nasce solo per la procreazione il piacere che noi proviamo ovviamente c'è dato dalla genetica per invogliarci a fare sesso perché se il sesso facesse male banalmente non avremmo tanta voglia di farlo e quindi procreeremmo di meno banalmente questo è proprio l'abc è ovvio che questo piacere così come tanti piaceri dell'essere umano si sono svincolati dalla sua ragione principale così come il cibo non mangiamo più solo per sopravvivere ma mangiamo anche per piacere e idealmente nello stesso modo il sesso lo si fa anche per piacere e questo farlo per piacere ovviamente è riflesso di una di un bisogno anche sia fisico che sociale appunto mi sono un attimo perso rispetto alla tua domanda che diceva come potessi mi collego così al tuo gioco su tinder chiedo ah il gioco su tinder per chi non lo sapesse non ha seguito il podcast io ho fatto un gioco un esperimento diciamo così per per provare a capire come come reagiscono le persone di fronte a un ragazzo di 28 anni che si dichiara vergine ho usato tinder ma io ripeto non penso che tinder sia particolarmente diverso dalla vita reale nel senso che più o meno c'era uno spaccato di vita reale le persone che usano tinder sono comunque persone normali e questo mio gioco consisteva nel dichiararmi vergine e vedere come cambiava la reazione della ragazza e effettivamente ho notato che c'era grande diffidenza cioè il fatto che un ragazzo si dichiarasse vergine a quell'età portava alle ragazze a porsi molte domande circa innanzitutto la sanità di questa persona perché è talmente strano essere vergine nella società di oggi o comunque è percepito così strano perché poi le statistiche secondo me non sono così improbabili nel senso che l'altra volta ho parlato di una statistica che in Giappone vede il 40% dei 35 anni giapponesi essere vergine contro solo l'8% delle donne e anche questo magari lo capiremo dopo cioè ne discuteremo dopo tu dici quindi se sei vergine conviene mentire per non passare da malati mentali a costo di non potersi aprire nemmeno con la propria compagna no probabilmente se sei vergine bisogna per forza di cose passare da un primo rapporto più profondo quindi magari se sei vergine non cerchi magari relazioni più occasionali perché sono sicuramente più difficili da vergine avere relazioni occasionali ma se trovi una persona secondo me che non ha preclusioni particolari e riesce a costruire una relazione sentimentale poi la verginità non penso sia un particolare problema nel momento in cui la relazione si è creata è sicuramente un problema nel momento in cui non si è creata la relazione quindi magari un consiglio potrebbe essere aspetta dirlo finché non è il momento giusto cioè finché non senti che la persona ti possa capire è un consiglio banale però questo gioco su Tinder fa capire proprio perché il dichiararsi vergine anzitempo non viene preso quasi mai in modo benevolo diciamo io sono un unico che vuoi come se esce come se ne esce anche io mi vergogno del sesso come se ne esce è una domandona secondo me come se ne esce è tra le righe di tutto quello che diciamo cioè non c'è nessuno che vi dice se ne esce così se ne esce cos'ha secondo me queste live i miei video tutto quello che faccio per il canale è capiamo insieme qual è il problema cioè in cosa consiste il problema dell'ikikomori che poi racchiude una serie di problemi come quello sessuale e poi ognuno che ha questo problema cercherà di mettere insieme pezzi e capire se e come poter migliorare perché poi uscire è esagerato cioè l'ikikomori ha una visione della vita quindi bisogna cercare non è una visione della vita è una difficoltà adattiva che deriva dà anche un'interpretazione della realtà per dirla in modo corretto che quindi va cambiata nel senso passa come ho detto anche nel mio ultimo video sulla depressione il problema non si risolve cercando la soluzione al problema raramente un problema soprattutto psicologico ma in generale mi sento di dire a 360 gradi si risolve incapponendosi sulla ricerca di una soluzione ma si risolve crescendo cioè crescendo maturando diventando persone più forti a 360 gradi quindi non solo in quell'ambito ma paradossalmente voi potreste sbloccarvi sull'aspetto sessuale se vi sbloccaste prima sull'aspetto relazionale sull'aspetto lavorativo sulla che ne so sull'identità corporea quindi magari curare più il vostro corpo e curare il vostro corpo non significa andare in palestra a ammazzarvi di pesi ma banalmente significa partire dall'alimentazione mangiare sano perché io non penso neanche che un corpo che la bellezza oggi sia come dire il formulo sento spesso dire eh ma il mio corpo magari sono grasso non mi piaccio però vabbè è un problema degli altri e quindi non me ne devo preoccupare secondo me c'è una via di mezzo nel senso tu non devi essere come dire schernito per la tua condizione ma devi cercare comunque di avere un'alimentazione sana per te stesso prima di tutto perché questo ti fa stare meglio a 360 gradi comunque sto divagando un attimo se una persona soffre d'ansia scusa se una persona soffre d'ansia da prestazione tende ad autosabotare volontariamente ogni possibile relazione con l'altro sesso e ciò porta inevitabilmente ad un isolamento sociale ah non era una domanda di Kevin Villa sì sì purtroppo l'ansia da prestazione che magari appunto ne parliamo se le domande vertono su questo perché non so anche in realtà qual è l'aspetto sessuale che vi interessa di più l'ansia da prestazione porta ovviamente all'autosabotazione all'autosabotaggio e questo ovviamente è deleterio perché poi autosabotandoti entri come spesso accade nei problemi più difficili no quelli che ci rendono la vita più difficile che sono hanno tutta una caratteristica questi problemi ovvero che si autoalimentano cioè hanno un meccanismo interno di autoattivazione così la depressione così per esempio l'ansia da prestazione che più accade più ti trovi in situazioni di ansia da prestazione più fallisce più fallisce più ti trovi in problemi di ansia da prestazione come si esce da questi meccanismi autoalimentanti non cercando di forzare mai la situazione ma cercando di riuscire a interpretare il problema in maniera più come dire controllata non è facile spiegarlo perché comunque sono meccanismi complessi ma in un momento in cui mi raccordo di come funziona questo meccanismo di autoattivazione posso sicuramente avere più controllo su di esso piuttosto che se magari ne sono completamente diciamo attraversato in modo passivo le parafilie da dove nascono questa domanda la rimando un attimo perché forse non sono propriamente competente cos'è Tinder? Tinder è un'app di dating molto usato oggi dove sostanzialmente tu visualizzi delle foto di persone che hai scelto come tuo partner quindi se sei eterosessuale maschile femmine maschi e viceversa insomma l'altro sesso oppure se sei omosessuale puoi scegliere del tuo stesso sesso e sostanzialmente selezioni queste persone in base a delle caratteristiche che sono soprattutto ovviamente l'aspetto fisico poi però ovviamente questo io ci tengo a precisarlo non è che se io visualizzo un perché lo uso anche io Tinder non ho nessuna vergogna di dirlo penso sia un modo come un altro per conoscere persone ovviamente va utilizzato con criterio non va utilizzato in modo spropositato io non me ne vergogno assolutamente non penso sia una cosa strana penso che in futuro sarà normalissimo conoscersi tramite l'app di incontri tantissime persone già oggi si incontrano con l'app di incontri ovviamente va utilizzato con criterio e una cosa che io dico a favore di Tinder che c'entra col sesso è che molti sostengono che Tinder sia completamente apparenza e invece io non lo penso anche perché comunque oltre all'aspetto fisico le foto che noi scegliamo trasmettono tantissimo di noi cioè banalmente io con la scelta di 3-4 foto ma anche di una foto ti posso non solo comunicare il mio aspetto fisico che a volte è la cosa più difficile da cogliere perché le foto sono spesso artefatte filtrate fatte da angolazioni particolari quindi non è detto che tu su Tinder veda l'aspetto fisico ma ti comunico qualcosa di me innanzitutto che ne so attraverso l'outfit attraverso la scelta delle foto attraverso l'espressione del viso attraverso banalmente le località in cui io sono in quelle foto cioè io ti trasmetto tanto di me una foto non trasmette solo l'aspetto fisico certo se io mi faccio una foto in bagno con il cellulare ti faccio vedere soprattutto l'aspetto fisico ma questo ti trasmette l'idea di me che sono una persona a cui che dà molta importanza al mio aspetto fisico in questa fase di relazione quindi tu potenzialmente che mi guardi tu che mi stai diciamo visualizzando capisci e hai delle informazioni di me che ovviamente non è detto che siano reali perché poi la conoscenza avviene ovviamente in una fase successiva quella di Tinder ma sono comunque delle informazioni che comunque l'altra persona ha scelto di veicolare c'è uno studio che dimostra che le donne sono più attrate dall'odore di un non vergine in pratica dopo una corsa facevano togliere le magliette sudate ai ragazzi e le facevano odorare alle girls non lo so questa cosa può essere verosimile ma non c'è una perdita di virginità reale nell'uomo cioè l'uomo quando è che perde la virginità la donna in teoria la perde attraverso appunto l'imene cioè la rottura dell'imene che è questa membrana che sta all'interno della vagina che di solito si rompe al primo rapporto sessuale quindi poi esce sangue di solito ma poi non è detto perché a volte non si rompe a volte insomma non è detto così a volte si rompe prima del rapporto sessuale ma l'uomo quando è che perde la virginità cioè cos'è la penetrazione però non c'è nessuna virginità fisica quindi anche lì il concetto di virginità è un po' borderline si può perdere la virginità con un rapporto orale si può perdere la virginità con un rapporto con un non lo so con un preliminare insomma è complesso scusate state facendo un sacco di domande cerco di andare per ordine alcune me le autocensura youtube io le mostro tutte perché non penso ci siano cose da censurare però magari non le vedo state andando veramente a ruota libera faccio veramente fatica a seguirmi scusa farebbe persone vergine a non avere diversi odori eh sì infatti è difficile nell'associazione che comodità ci sono sessuologi no non ci sono sessuologi ma gli psicologi comunque possono aiutare anche sulle aspette sessuali nel senso che il sessuologo è sostanzialmente uno psicologo specializzato negli aspetti sessuali cioè nelle problematiche sessuali quindi non ci sono di per sé sessuologi io penso sia una professione che sarà in enorme crescita nei prossimi anni perché insomma le problematiche sessuali sono in grandissimo aumento ragazzi non vi complessate troppo secondo me la cosa migliore è lasciarsi andare eh però non è facile perché comunque i complessi derivano anche dalle aspettative che ci sono e a volte sono aspettative non per forza autoindotte ma sono aspettative reali che esistono e quindi non è non è così semplice lo so che è più facile a dirsi che a farsi ma il pensiero può essere una trappola è vero comunque è vero assolutamente l'auto mettersi ansia rispetto al sesso è esattamente quello che dicevamo prima un'autoattivazione il frenolo si rompe no non è detto no assolutamente non c'è questa cosa nel maschio no sì infatti no no non c'è la rottura del frenolo io mi sono sbloccato 17 anni grazie a un viaggio a Cracovia con i miei amici dove ho conosciuto una splendida ragazza perdendo con lei la virginità e da gli ho iniziato carriera con le donne sì c'è chi si sblocca presto però abbiamo visto che molti insomma molti studi dicono che ci sono molti vergini in crescita io per esempio mi sono sbloccato più tardi nel senso mi sono sbloccato intorno ai 22 anni e prima avevo sicuramente più difficoltà quindi ognuno ha la sua età di sblocco anche in base alle proprie difficoltà io penso che tutto dipenda appunto da come si vive il sesso come si vive la sessualità e l'avere una concezione sbagliata del sesso e della sessualità ti porta ad avere paura ti porta ad avere paura della performance e quindi bisogna quando c'è quest'ansia esagerata nel sesso bisogna lavorare su se stessi con magari l'aiuto di qualcuno che ne è competente per capire come mai c'è tutta questa ansia legata al sesso perché se noi andiamo a prendere il sesso per quello che è dovrebbe essere una cosa priva di ansia un rapporto tra due persone che porta in qualche modo allo sfoco degli istinti che sono appunto creati originalmente per la procreazione l'ansia cioè l'ansia la prestazione sessuale l'ansia da prestazione interviene nel momento in cui il sesso diventa non solo uno sfogo completamente istintuale ma un'occasione sociale cioè un'occasione in cui due persone mostrano le proprie anche oltre al proprio fisico quindi magari c'è anche un'ansia da magari perché ci si sente brutti ma anche la propria disinibizione e siccome la disinibizione sessuale non è un qualcosa che uno può come dire simulare la disinibizione sessuale è completamente istintiva proprio perché il sesso ha questo grande limite che mentre in altre cose noi possiamo fingere magari anche nel video che vi avevo proposto sulla profezia che si autovera dicevo fingete qualcosa finché riuscirete a farlo e questo è anche un famoso detto americano fake till non mi ricordo com'è si dice scusate fake till do it mi pare mentre questo è possibile nelle situazioni in cui noi dobbiamo controllare i nostri istinti anzi è utile che controlliamo i nostri istinti per simulare nel sesso è difficile controllare i propri istinti perché il sesso dovrebbe essere qualcosa di completamente disinibito e controllare i nostri istinti e quindi diciamo essere in qualche modo dissimulanti di un comportamento cosa fa rompe l'eccitazione perché l'eccitazione è un meccanismo assolutamente spontaneo e se rompiamo l'eccitazione ovviamente abbiamo difficoltà negli uomini di reazione nelle donne di insomma di lubrificazione quindi è assolutamente una cosa che dovrebbe essere il più spontanea possibile quindi l'ansia da prestazione nel sesso è particolarmente deleterio proprio perché va a rompere quello che è il meccanismo necessario per proprio avere il rapporto sessuale io ho cominciato a uscire di casa il sabato sera a gennaio ho conosciuto alcune ragazze e ora sono un po' meno timido di prima ma mi mettono comunque un po' a disagio beh sicuramente la relazione con l'altro sesso per chi magari ha già difficoltà di relazione è sicuramente uno step in più però insomma è tutta questione di prendere confidenza per esempio io ero molto timido con le ragazze anche perché ho fatto poche ragazze quindi avevo avuto pochi rapporti con le ragazze proprio rapporti come dire relazionali questo mi portava qualora incontrasse una ragazza ad essere eccessivamente in imbarazzo proprio perché avevo poche esperienze di rapporti con l'altro sesso e istintivamente quindi mi vergognavo di più rispetto a che quando mi confrontavo con un maschio cosa ne pensi della paura e del senso di inferiorità di chi ce l'ha piccolo ecco questa è un'altra un'altra tematica nel senso che oltre alle caratteristiche comportamentali cioè quindi di personalità nel rapporto sessuale l'ansia da prestazione si lega anche agli aspetti fisici e ovviamente non si può nascondere che si lega anche alle dimensioni del pene questo che se ne dica è una cosa che esiste è reale non è una barzelletta sicuramente poi dimensione piccolo grande relativo cioè dipende anche banalmente dalla ragazza o dalla propria struttura fisica quindi non c'è una misura quindi 20 15 14 10 dipende da tante cose sicuramente ci sono probabilmente delle compatibilità fisiche che non sono permesse da alcune condizioni del corpo per dire se io ho un pene piccolo e la ragazza ha una vagina magari larga ovviamente siamo incompatibili se io ho un pene grosso e l'altra ragazza ha una vagina molto stretta siamo incompatibili lo stesso anche se io ho il pene grosso anche se la vagina in realtà è molto elastica però magari fa male nel senso quindi bisogna cercare in qualche modo di trovare una compatibilità o comunque il fatto che il nostro corpo anche l'apparato genitale sia in qualche modo apprezzato dall'altra persona questo magari può darsi che non succeda alla prima persona ma necessiti di più di un incontro quindi magari ad alcune persone non piaceremo fisicamente ad altre sì e quindi sicuramente una persona a cui piacciamo c'è sicuro non ci sono dubbi probabilmente alcuni sono più belli e quindi hanno più facilità chi è più brutto e qua attorno spezzo una lancia a favore degli incel che immagino comunque ci sarà qualcuno che si riconoscerà in questa categoria la bellezza incide ovviamente l'aspetto fisico incide ma come ho ripetuto varie volte nei miei video questa cosa non è determinante assolutamente di ogni possibilità di non avere rapporti sessuali domanda bruciapelo sarebbe naturale una società in cui il sesso sarebbe liberalizzato o è la natura che impone una certa riflessione sulla scelta di fare sesso con una persona Ale tu questa cosa me l'avevi già anticipata su Instagram perché mi segui grazie mille innanzitutto che mi segui e ti avrei risposto e ti rispondo te l'avevo detto che assolutamente no nel senso non c'è una legge che impedisce e rende il sesso così difficile così complesso così anche limitato a volte semplicemente sono leggi culturali sono leggi morali che comunque sono potentissime quindi molte di queste leggi culturali e sociali le scambiamo per leggi vere e proprie quindi banalmente appunto una società dove il sesso è visto in maniera molto più libera e per fortuna si sta andando in questa direzione comunque dove i tabù legati al sesso si stanno andando a sciogliere soprattutto sulle ragazze che sono sempre state un po' additate di essere facili o comunque in qualche modo ostracizzate per le loro desideri sessuali questo ovviamente deriva da una società patriarcale dove l'uomo è padrone tale per cui insomma c'è un tentativo di controllo per cui le ragazze insomma si sentivano in colpa e non solo in colpa ma anche minacciate fisicamente per la propria come dire infedeltà e questo questa paura per l'infedeltà si è trasformata anche in una come dire visione sociale negativa del sesso legato alla ragazza mentre ovviamente l'infedeltà sul maschio non era nemmeno legalmente perseguita perché voi dovete sapere magari i più giovani non lo sanno e anche io sono giovane e quindi non ho vissuto in quell'era però so che fino a non molti anni fa quindi non tantissimi anni fa quindi parliamo di qualche decina da anni il tradimento era un reato ma era un reato soprattutto da parte della donna che poteva in qualche modo essere anche esisteva il cosiddetto delitto di onore per cui se una donna tradiva l'uomo e veniva uccisa in qualche modo tu avevi uno sconto di pena sulla base di questa attenuante il delitto di onore capite che il sesso è vissuto in maniera diversa dagli uomini e dalle donne anche per un retaggio culturale che ci portiamo dietro storico dove le donne ovviamente non hanno le stesse non avevano gli stessi diritti degli uomini di poter desiderare il piacere sessuale questa cosa per fortuna sta cambiando negli ultimi anni però per converso ha dato adito ad un altro fenomeno quindi un po' la situazione si è ribaltata per cui le donne hanno preso molto più potere nella decisione dei partner e paradossalmente gli uomini pur mantenendo lo stesso potere di decisione lo hanno perso per una questione di difficoltà di in qualche modo attrarre l'altro sesso perché prima attrarre l'altro sesso non era un requisito fondamentale per potersi sposare e quindi avere rapporti sessuali ma bene o male i matrimoni erano spesso anche combinati o comunque una donna era pressata anche dalla famiglia a sposarsi dopo una certa età quindi in qualche modo doveva accoppiarsi e quindi in qualche modo un uomo anche scarso dal punto di vista relazionale dal punto di vista del corteggiamento violento qualunque tipo scorbutico antipatico in qualche modo riusciva a trovare un partner sessuale oggi non è più così per fortuna e questo cosa succede però che per converso ci sono tutta una serie di persone che non hanno delle caratteristiche di personalità in grado di personalità io appunto soprattutto sulla personalità e anche magari fisiche comunque ma soprattutto di personalità in grado di portare ad avere successo con l'altro sesso e questo li condanna li condanna tra virgolette perché poi non è una condanna ma è un qualcosa di reversibile ma è assolutamente qualcosa che li fa partire in salita cioè questo è innegabile che ci siano delle persone che partono favoriti in questa diciamo ricerca del partner sessuale e persone che partono sfavorite per una questione di personalità e di aspetto fisico questo io non mi sentirò mai di negarlo e chi lo nega penso sia assolutamente fuori dalla realtà scusate state scrivendo tantissimo ma io per trattare gli argomenti devo leggere un po' con calma quindi non non divagate nei commenti vedo che scusate devo devo cavoli devo bannare qualcuno fate i bravi dai che ogni volta che si parla di sesso se c'è qualcuno che in qualche modo fa casino poi si capisce bene perché non si parla di sesso perché la si butta sempre sul ridere non vi non vi scrivete in chat tra di voi perché sennò è un casino io spesso come no io spesso noto poca empatia in chi manifesta solitudine sessuale sentimentale è un problema che viene sminuito per te perché la solitudine la virginità per essere compresa va vissuta in prima persona viene sminuito perché secondo me non c'è abbastanza informazione su quali sono le difficoltà legate al sesso non c'è sensibilizzazione non c'è come dire informazione ogni qualvolta una tematica è sottotrattata è facile che venga fatta preda di coloro che invece quella tematica hanno piacere a trattarla perché gli piace e perché quindi non hanno problemi e quindi in qualche modo il filone dominante come esattamente come il filone dominante della società è quello degli estroversi non perché siano di più ma perché si impongono di più stessa cosa vale per il sesso la visione dominante sembra essere quella dettata da un certo tipo di atteggiamento verso il sesso ma banalmente perché chi non ha quell'atteggiamento viene in qualche modo limitato sono arrivata ora per caso hai risposto alla domanda sull'autoerotismo dell'altra live no Mariana rifammela che non me la ricordo vediamo un attimo moltissimi maschi e non solo non riesce a concepire che un ragazzo non faccia sesso con la prima che capita ma cerca invece vabbè questo è uno stereotipo culturale ovviamente però è vero e questo secondo me è innegabile che sembra probabilmente esserci una differenza non so quanto fisica non so quanto culturale sicuramente una fortissima base culturale c'è nell'attrazione che i reciproci sessi hanno cioè il maschio sembra più attratto mediamente quindi io parlo statisticamente perché voglio tenere uno sguardo sociale poi non so il singolo caso la singola esperienza ma da quello che ho visto io mediamente i ragazzi sono attratti molto più facilmente dall'aspetto fisico e anche dalla personalità ma danno una grande importanza cioè la personalità non modifica particolarmente l'attrazione fisica mentre la donna la percezione della personalità dell'uomo modifica molto di più anche la sua percezione della bellezza fisica dell'uomo stesso questo è questo è quello che io ho notato allora io comunque per esperienza mia una volta che lo si fa e si entra nel meccanismo ci si sblocca e si azzera la tensione bisogna solo superare lo scoglio della prima volta è vero sicuramente come ogni cosa ha bisogno di allenamento quindi non ci sarebbe bisogno di allenamento se fosse una cosa totalmente spontanea come dovrebbe essere ma siccome non lo è perché come detto è di fatto diventata una prestazione sociale che lo si voglia o meno questa cosa è difficile da scardinare quindi bisogna cercare di abbassare in qualche modo l'ansia della prestazione ma questa sicuramente rimarrà in una certa misura almeno le prime volte però ovviamente come ogni cosa più la si esercita e più ovviamente si sente poi in qualche modo competenti in quella determinata azione perché la competenza è qualcosa che inevitabilmente si sviluppa attraverso l'esperienza quale dovrebbe essere il primo approccio di unicomori con una ragazza o una ragazza ma io non penso che gli kikomori siano diversi sostanzialmente dalle altre persone quindi il primo approccio come per gli kikomori così per gli altri dovrebbe essere il più spontaneo possibile nel senso bisognerebbe sempre cercare le relazioni in un mondo ipotetico qualora se ne senta il bisogno qualora si abbia voglia e non forzarsi a fare qualcosa di cui non si sente il bisogno se non ci si sente il bisogno per esempio di uscire bisogna magari riporsi perché non si sente il bisogno oppure bisogna chiedersi se quella mancanza di bisogno non è altro invece che un'autorepressione che deriva dalla paura che quel bisogno innescherebbe in noi cioè a quale sfida quel bisogno che noi se avremmo ci porterebbe scusate risposta un po' contorta perché spesso ci si reprime sessualmente perché si ha paura perché si ha paura del giudizio perché comunque la prestazione sessuale essendo diventata una prestazione sociale è legata molto al giudizio io personalmente ho constatato di avere un blocco mentale a raggiungere l'orgasmo facendo sesso con ragazze con cui non avesse un minimo di legame affettivo prostitute e ragazze tinder che ragazze tinder e prostitute non sono la stessa cosa mi dispiace ragazze tinder sono ragazze normali che possono avere più o meno prevenzione al sesso magari di più ma non le paghi cioè c'è una differenza enorme tra una prostituta che magari non ha voglia di fare sesso ma lo fa con te solo perché la paghi quindi è una condizione di difficoltà non lo so di solito difficoltà però comunque se non la pagassi non farebbe sesso con te quindi è una cosa che tu non diciamo ottieni sulla base del suo interesse ma ottieni sulla base di un suo interesse economico nei tuoi confronti le ragazze tinder se non prendono soldi e quindi non sono prostitute non hanno nessun tipo di legame con le prostitute nel senso che magari sono più lanciate a volte secondo me no però può darsi che tinder attragga soprattutto questo target quindi semplicemente lo fanno in modo normale quindi non vedo perché le due cose debbono essere accostate anche io pensavo che si rompesse ma ok qua state parlando del frenulo secondo te il senso di colpa che molte persone hanno in questo campo ha radici religiose? sì 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 la nostra educazione religiosa cristiana cattolica incide fortemente sulla nostra educazione e quindi enormemente anche se non ce ne accorgiamo anche se non abbiamo avuto genitori cattolici anche se siamo cresciuti in un contesto non prettamente cattolico comunque viviamo per anche contaminazione culturale tutta una serie di tabù che originano spesso dalla religione e dal fatto che il sesso comunque nella religione a partire dall'autoreutismo venisse molto ostracizzato il primo approccio sembra insorbontabile è tutta questione di pratica su quello bisogna bisogna semplicemente sbloccarsi cercare di prendere porte in faccia nel senso bisogna non aver paura di fare brutte figure di in quello che io dico spesso in un termine colorito mangiare merda per dirla proprio in termini pratici e non psicologici quindi proprio fare esperienza anche negativa per poter avere le spalle sempre più larghe nei giorni e nel tempo a venire per parlare un po' di incel Marco non credi che un bello bello abbia un quarto dei problemi che abbiamo o abbiamo avuto noi comuni mortali un bello viene proprio tirato forza a far sesso dalle ragazze si fa più sesso un bello ma non per questo è necessariamente più realizzato anzi io penso che nelle ragazze l'essere belle a volte è una grande difficoltà nei ragazzi probabilmente non lo so non riesco a vederla io in modo così netto cioè fai sesso fai tanto sesso quindi vivi bene fai poco sesso quindi vivi male è tutta una questione di approccio quindi fai tanto sesso lo fai in modo positivo lo vivi bene quel tanto sesso che fai c'è gente c'è gente che fa tanto sesso ma magari non gli piace nemmeno o comunque questo fare tanto sesso lo porta anche a diventare disinteressato nel sesso o a cercare sempre più perversioni c'è chi fa poco sesso e sta male l'abbiamo detto non la vedo così netta io bisogna sempre contestualizzare e poi comunque non vedo neanche uno bello ha tutte le cose positive e uno brutto ha tutte le cose positive magari quello brutto trae il giovamento da altre qualità che magari quello bello non ha ma quale donna non si paga questa è una battuta brutta nel senso che per fortuna la parità dei sessi sta diventando anche economica che ne pensi della paura di innamorarsi legarsi emotivamente ad una persona la paura di innamorarsi può essere dovuta a due modi da due cose una è perché si è già innamorato in precedenza si è sofferto molto e quindi si ha paura di soffrire di nuovo altrimenti non vedo perché uno dovrebbe avere paura di un sentimento di cui non ha idea di cosa sia perché potremmo stare qua a discutere magari lo faremo in un'altra live perché già ci sono troppe tematiche in questa sto in qualche modo esplodendo perché tante informazioni state tirando fuori cos'è l'amore cioè cos'è il sentimento che noi definiamo amore potremmo stare qua a discuterne ore perché spesso l'amore è dipendenza affettiva e spesso l'amore è bisogno è routine cioè cos'è l'amore questo è è difficile posso permettermi di dare un consiglio a Yukiko Mori riguardo l'approccio è importante trattare la ragazza come un pari una persona e non una dività o far percepire un'importanza esagerata grazie Alex ti voglio bene perché hai toccato un altro punto che volevo assolutamente trattare in questa live perché abbiamo tanta pressione nei confronti dell'altro sesso perché il rapporto sessuale è mitizzato il rapporto sentimentale è mitizzato prima di tutto dai film dalla cultura cioè per esempio banalmente i film d'amore che si guardano quando si è giovani quindi che si è consigliati anche in fascia d'età di come dire adolescenza sono spesso mitizzati storie d'amore finte paradossali assolutamente fuorvianti dalla realtà dove la donna è mitizzata è un oggetto di grande corteggiamento che l'uomo in qualche modo deve raggiungere a costo di grandi sforzi e questa cosa ovviamente porta una difficoltà estrema nel rapporto sentimentale sia da parte dell'uomo che quindi tenderà a vedere la donna come un qualcosa di assolutamente da trattare in modo ineccepibile perché se no attenzione si fanno dei danni sia da parte della donna ma che in qualche modo si cercherà delle persone che la trattino in modo assolutamente anacronistico cioè non come un essere umano giustamente come dicevi tu ma come una divinità questo è un grandissimo errore e credo sia una delle chiavi per sbloccarsi cioè smettere di avere non considerazione nel senso di rispetto per la donna anzi quello deve esserci più di quello che c'è in questo momento ma deve essere un rispetto che è in qualche modo da pari cioè quindi non l'uomo che deve in qualche modo convincere la donna perché la donna si deve come dire concedere e c'è anche questa cosa viene veicolata questa credenza viene veicolata tantissimo dal linguaggio pensate a quanto spesso si dice una donna che la dà innanzitutto la dà vuol dire da se stessa al suo corpo perché non può dare una parte del suo corpo però nel linguaggio che utilizziamo veicoliamo molto dei significati che attribuiamo al sesso e quindi assolutamente una donna che la dà è una donna quindi che viene percepita da una parte quando fa comodo positiva perché è una donna quindi non figa di legno come si usa dire dall'altra a volte viene percepita se si vuole in modo negativo quindi una zoccola una troia scusate per il linguaggio ma è il linguaggio che viene utilizzato nella realtà quindi mi sembra assolutamente stupido non utilizzarlo ok quindi questo è un punto secondo me fondamentale secondo me sono contento che sia emerso concordo sul fatto che le esperienze precedenti negative siano a causa delle paure e beh quello sicuramente assolutamente le esperienze la paura è un qualcosa che deriva sia dall'esperienza sia dalla paura di fare esperienza pensi che amore e sesso siano svincolati sì amore e sesso sono svincolati ovviamente più che amore e sesso siano svincolati mi pare ovvio cioè che possano essere svincolati mi pare ovvio che possono essere accomunati mi pare ovvio non credo che queste due cose si possano negare perché se amore e sesso fossero per forza vincolati non esisterebbe per esempio il sesso pagamento che è sempre esistito e se amore e sesso non fossero svincolati non esisterebbe questa grandissima tendenza che le persone hanno ad accoppiarsi soprattutto con persone con cui hanno un forte legame sentimentale però qua dipende tutto dalla persona dal momento dallo stato psicofisico dall'interpretazione del sesso non c'è una regola particolare tu pensi che le donne non mitizzino anch'esse l'uomo io credo di sì 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 lo mitizzano assolutamente in modo diverso ad esempio l'uomo conquistatore cavaliere l'uomo decisionista è sicuro credo che anche tu abbia toccato un punto importante la donna culturalmente è attratta e questi non sono stereotipi sono cose fattuali mi verrebbe da dire perché non c'è nulla nelle mie parole di accusatorio e né di autodenigratorio nei confronti né dell'uomo né della donna e né diciamo non c'è nessuna accusa io penso che siano cose che bisogna di cui bisogna prendere atto e che sono così nel senso che non è che lo decido io ma penso che l'esperienza di molti vada in questo senso poi magari mi sbaglio per carità però quello che voglio precisare è che non è che se io dico una cosa è perché voglio in qualche modo colpevolizzare le donne o voglio difendere i maschi o voglio difendere le donne o voglio colpevolizzare i maschi è semplicemente una discussione che nasce ovviamente anche dalla mia esperienza diretta perché questo è inevitabile che quindi può essere assolutamente fuorviante posso cambiare nei prossimi anni però io penso che assolutamente le donne se c'è una cosa di cui e a cui difficilmente rinunciano in un uomo è la tendenza alla sicurezza cioè la tendenza di mostrarsi sicuri proprio perché in maniera anche ipocrita se la vogliamo mettere così una donna cerca un uomo sicuro perché a volte spesso è più insicura lei e quindi cerca qualcuno in qualche modo che compensi questa sua insicurezza però l'uomo non è l'uomo che nasce stereotipato quindi l'uomo può essere insicuro può essere debole e questo rende le persone e crea anche i fenomeni come quello dell'incel perché ovviamente un uomo insicuro nascerà sicuramente esistono gli uomini insicuri così come esistono le donne sicure però mentre le donne sicure e le donne insicure comunque hanno tutte più o meno la stessa percentuale di possibilità di avere rapporti sessuali gli uomini insicuri no e quindi in questo diciamo quadrilatero quindi donna sicura donna insicura uomo sicuro uomo insicuro chi rimane fuori è l'uomo insicuro e quindi l'uomo insicuro ma questo attenzione non lo dico per vittimizzare perché poi ovviamente ci sono magari gli incel adesso non voglio categorizzarne almeno però che prenderanno questa palla al balzo per dire ah vedi allora che abbiamo ragione questo non significa che l'uomo deve colpevolizzare la donna per questo perché la donna è tratta in modo istintivo cioè non è che una donna deve modificare la propria attrazione sessuale perché tu devi in qualche modo soddisfare i tuoi istinti questa sarebbe una cosa assurda da chiedere e chiunque la chieda non ha nessun rispetto per l'altro sostanzialmente bisogna prendere questo come spunto di riflessione sul fatto che esista un fenomeno che porta le persone ad essere fortemente in difficoltà soprattutto i maschi intero e sessuali insicuri e non brutti su questo io non cederò mai mi dispiace a chi mi critica ma io sono sono convinto che la bellezza viene molto dopo la sicurezza la sicurezza è la vera la vera cosa che io penso una donna cerchi in maniera statistica molto più in un uomo io sono qui per un'altra domanda che non riguarda l'inizio di una relazione ma la fine come si supera un tradimento cavolo Vincenzo mi sarei questo non è lo spazio giusto nel senso che qua entriamo più che sul sesso sulle relazioni sentimentali magari ci dedichiamo un'altra live perché se no andiamo molto fuori tema ci sono i kikomori che sono diventati tali a causa di abusi sessuali subiti ma non credo si possano definire i kikomori nel senso che lì c'è probabilmente un trauma molto profondo che ha una base appunto traumatica e quindi l'eventuale sfiducia nei confronti della società che potrebbe ricondurre al i kikomori non credo sia paragonabile a un'insicurezza che deriva ma magari appunto da un'esperienza continuativa e non appunto frutto di un grave evento crescere in una famiglia dove i genitori non scambiano davanti ai figli gesti di affetto reciproco non comportandosi da coppia ordinaria può portare timidezze difficoltà sessuali nei figli secondo me sì perché i miei genitori sono così i miei genitori io non li ho mai visti in vita mia darsi un bacio ma non un bacio in bocca forse sulla guancia non li ho mai visti darsi un bacio non li ho mai visti sentirsi dire ti voglio bene e ovviamente questo tipo di loro comportamento molto anaffettivo non li ho mai visti abbracciarsi o comunque non mi hanno mai abbracciato raramente forse mi abbiano abbracciato sicuramente mia madre mai e questo ovviamente incide incide perché a livello proprio di modello di come funziona una coppia di anche comunque messaggi che una coppia manda attraverso il proprio comportamento non penso che possano in qualche modo non incidere però poi non sono solo i genitori che incidono perché tu vedi la relazione dei tuoi genitori ma vedi ovviamente anche altre relazioni magari attraverso internet attraverso i tuoi compagni sono istintivamente super attratto dalle ragazze leggermente insicure aspetto le involuntary inubili a distruggermi eh vedi perché la ragazza insicura a differenza del maschio insicuro è ancora culturalmente più eccitante questo fa parte dei ruoli di genere non è inutile che qualcuno si levi a difesa di questa cosa perché secondo me è talmente una cosa evidente che purtroppo ma non mi viene neanche a dire purtroppo è così quindi le attrazioni sessuali non le decidiamo noi è una cosa istintiva quindi dobbiamo semplicemente farci una ragione che ci sono dei meccanismi che determinano le relazioni sociali e sessuali e che dobbiamo cercare di inserirci perché non possiamo cambiare questi meccanismi dobbiamo cercare di inserirci e o riuscire a trovare una persona che in qualche modo differisca da questi meccanismi non vedo altre soluzioni sono molto pragmatico io come persona quindi non non mi va neanche di mentire a me stesso quindi non come vedete non cerco delle strane teorie che in qualche modo vadano a screditare questo mio tipo di pensieri cosa pensi del fatto che unico modo possa essere paragonato a un ritardato malato mentale e questo possa distruggere la tua immagine verso una ragazza io non credo che la tua ragazza la tua immagine venga distrutta tanto dal fatto di essere considerato un malato mentale che paradossalmente per alcune potrebbe essere anche interessante lo psicopatico non lo so adesso io penso che la tua immagine è danneggiata dal fatto che essendo unikikomori e quindi essendo magari additato con unikikomori tu manifesti una personalità di te molto insicura molto debole e questa debolezza a livello ovviamente di relazioni sessuali può essere un freno e quindi bisogna lavorare cioè ragazzi il punto è bisogna tutte queste cose si superano assolutamente sono tutte cose superabili non voglio che questa live diventi un'autocommiserazione ma per chi parte con meno vantaggi nell'ambito sessuale ma più vantaggi in altri ambiti perché comunque non credo che uno nasca con tutti le doti e uno nasca con zero doti quindi che ne so magari uno con meno capacità fisiche eccetera può compensare cercando di attrarre ragazze che magari sono più attratte da altre cose che ci sono quindi non è vero nemmeno che tutte le ragazze sono attratte solo da una cosa o dall'altra la rimetto la domanda era cosa pensi dell'autorotismo non pensi che il rischio per un escluso sociale sia di trovarsi sempre più esausto e depresso e allora l'autorotismo se vabbè l'autorotismo è una cosa del tutto naturale lo fa spesso anche chi è sposato chi è fidanzato non penso che in una coppia dovrebbe mancare mai l'autorotismo penso sia una cosa sana ovviamente se una coppia fa rapporti sessuali molto frequenti probabilmente non se ne sentiranno anche il bisogno ma a parte quello penso che sia una cosa normalissima ovviamente se diventa esclusivamente autorotismo questo può portare anche a rischi però lì dipende tutto anche da che strumenti si utilizzano per l'autorotismo si utilizzano i porno che tipo di porno perché ci sono porno più come dire che rientrano in un immaginario comune e porno che magari sono in qualche modo non lo so anche qua qual è la perversione dov'è il confine della perversione un altro tema molto interessante fino a non lo so la generazione dei miei genitori probabilmente il rapporto orale era una perversione oggi probabilmente il rapporto orale è una cosa normalissima cos'è diventato la perversione non lo so il rapporto anale cosa può essere perversione magari domani anche la sticella della perversione si abbasserà ulteriormente o si alzerà ulteriormente la verità è che nel sesso potenzialmente vale tutto sempre e comunque rispettando l'autonomia e la libertà del partner entro questo non credo ci siano cose di cui uno dovrebbe privarsi ho appena trovato un video su Pornhub in cui un ekiko muore perde la virginità ecco questa cosa non so che informazioni porti ma soprattutto cioè sui porno i titoli sono fake cioè un ekiko muore lo mettono solo per eccitare certo è un ekiko muore veramente come fai se prego un ekiko muore il porno distrugge la naturalezza del sesso esatto questo è un altro grande tema quanto i porno impattano sul sul aspetto sessuale tanto tantissimo danno un immaginario di sesso di un certo tipo dove di solito la donna è oggetto e l'uomo è dominatore e questo fa sì che la donna cerchi uomini dominatori e l'uomo cerchi rafforzi ovviamente poi le due cose si autoalimentano perché da una parte di base culturalmente è così poi il sesso la rafforza e quindi aumenta un ciclo vizioso per cui ovviamente si creano dei ruoli di genere anche nel sesso che eccitano poi non è vero sempre perché appunto poi ci sono anche tutti dei filoni di domination da parte della donna sull'uomo dove l'uomo si eccita tantissimo anche magari senza rapporto sessuale e lì bisogna anche di capire e discutere se si trattano di perversioni o altro un vergine o pseudo tale soffre dello stesso problema degli kikomori più tempo si perde più speserà sempre più entrando in un circolo vizioso si ma è un falso problema cioè è un falso problema perché la sensazione di tempo perso può essere sofferta a qualunque età a quale prescindere dal tempo quindi più cosa cambia che un nikikomori a 25 anni vergine ha più paura di un nikikomori a 30 anni vergine si però già a 25 anni comunque è strano essere vergine a 30 anni non è di più però poi entri in una fascia d'età che più vai avanti più comunque sei sempre vergine in una fascia d'età in cui culturalmente nella società non dovresti essere quindi sicuramente è più difficile ma basta trovare la persona che ti capisca quindi una cosa fondamentale lo voglio dire proprio chiaramente per superare l'ansia da prestazione per superare le paure sul sesso bisogna cercare partner con un allineamento di valori cioè non bisogna cercare partner sessuali e sentimentali dove c'è un disallineamento dei valori perché se c'è un allineamento dei valori ovvero i miei valori sono simili ai tuoi assolutamente non c'è nulla che possa in qualche modo impedire alla relazione di funzionare se non appunto la dinamica del carattere che non c'è a livello di feeling però a livello sessuale io mi devo sbloccare con una persona che apprezzo a livello valoriale cioè che sento abbia dei valori simili ai miei perché questo abbassa automaticamente l'ansia da prestazione perché se io ho una persona che percepisco con dei valori positivi mi percepisco anche meno giudicata da lei e quindi mi sento anche più in possibilità di sbagliare di fallire di mostrarmi anche debole ai suoi occhi perché so che attraverso il suo sistema di valori questo non comporterà una grave difficoltà per me i porno sono finzione ok i porno sono finzione quindi daranno un'immagine distorta del sesso ai più giovani sì e infatti bisogna chiedersi qual è l'età giusta per incominciare a usufruire dei porno oggi probabilmente è sempre più facile farlo perché prima ovviamente bisognava arrangiarsi con dei giornaletti che non erano di facile reperimento oggi i porno ovviamente sono molto più facili da reperire online e questo deve portarci a chiederci come le nuove generazioni reagiranno questo è un dato di materiale pornografico che le vecchie generazioni non avevano a disposizione e invece le generazioni di oggi sì cosa ne pensi di chi sceglie di perdere la verginità con prostitute domanda difficile da una parte dicevo appunto che secondo me bisognerebbe cercare di perdere la verginità con una persona che ha il pari dei tuoi valori ma per una questione di abbattimento dell'ansia da prestazione per cui l'ansia da prestazione con le prostitute non è che si annulla è più facile perché ovviamente togli tutto l'aspetto di corteggiamento e passi direttamente al lato sessuale quindi l'ansia da prestazione è assolutamente delimitata all'aspetto all'aspetto sessuale ma per uno che ha grande ansia anche con le prostitute non è detto che riesca a perdere la verginità è meglio invece trovare una persona con cui si sta bene con cui insomma c'è affinità di valori e c'è in qualche modo trasporto ovviamente difficile bisogna anche darsi da fare in quel senso non so conoscere più ragazze anche magari perché no utilizzando delle app che oggi possono da un lato in qualche modo porre più rischi perché comunque sconsiglio ovviamente l'utilizzo delle app ai minorenni ma perché è maggiorenne e magari ha uno stile di vita che porta ad avere difficoltà con le ragazze non vedo motivo per cui non dovrebbe usare un'app di incontro no no non è un lapsus non so cosa ho detto Chiara come sempre ti ringrazio grazie a te per le domande state facendo molte domande interessanti non è facile rispondere a tutte cioè sono tutte domande interessanti che spesso mi pongo anch'io quindi insomma sono temi che potrebbero avere una live a se stante secondo me più che vittimizzarsi è importante comprendere queste realtà che abbiano spiegato che abbiamo spiegato e mettersi a lavoro tranquillamente per migliorare e fare man mano tutte le esperienze sono d'accordo bisogna avere un approccio che bisogna cercare di capire che i problemi o le difficoltà possono essere superati attraverso un approccio di tipo non pauroso non timoroso ma pronto a mettersi in discussione quindi ovviamente anche questo è più facile a dirsi che a farsi ma se non si fa esperienza se non si sbatte la testa questo è banale quanto il mondo ma è anche vero è difficile poi riuscire a cambiare il proprio atteggiamento quanto il fallimento il fallimento sessuale è collegato al fallimento esistenziale tutto si mischia a un certo punto tutto si mischia il fallimento esistenziale io penso che il fallimento esistenziale sia sintomo di un'insoddisfazione prima di tutto materiale perché se c'è la soddisfazione materiale è più difficile che ci sia un assenso di fallimento e vuoto esistenziale soddisfazione materiale attenzione non intendo beni non intendo intendo soddisfazione psicologica quindi umore positivo perché comunque il fallimento esistenziale o depressione esistenziale o in generale la depressione deriva da un umore basso l'umore basso non è mai dato solamente da da un aspetto a un amico di 25 anni vergine la vive malissimo è normale che lo ritiene qualcosa di cui vergognarsi alla fine non sarà l'unico sopra vent'anni non aver fatto sesso no non è l'unico sono tanti ovviamente però è normale vergognarsi nel senso che ovviamente in un mondo in cui mi sto tagliando la testa scusate in un mondo in cui ovviamente le prime rapporti sessuali si sono abbassate notevolmente e appunto ci sono queste pressioni sessuali la vergogna può essere anche normale non bisogna avere paura della vergogna non bisogna scappare dalla vergogna il segreto probabilmente è abbracciare anche la vergogna essere disposti a vergognarsi a soffrire la vergogna affinché questa cosa sia propedeutica a stare meglio e quindi a essere più forti allenarsi allenarsi mentalmente come ci si allenerebbe in un campo di atletica quello che tu dice è giusto ma è molto difficile trovare ragazzi e ragazze con valori compatibili anche perché quando ti isoli sviluppi idee e valori che sono molto diversi da quelli della moltitudine internet in questo caso può essere un buon viatico per trovare persone con una tua stessa scala di valori puoi trovarle puoi magari cercarle in passione che magari hanno tendenzialmente persone con un certo tipo di valori io ti assicuro che come tu maschio penso maschio dal nome dici che non ci sono ragazze con determinati valori ci sarà una ragazza che penserà che non c'è un ragazzo con determinati valori quindi tanto sta nel riuscire a incontrare delle persone in modo da poi riuscire a trovare quella con cui si sta bene ovviamente quella con cui si sta bene e c'è un allineamento non la troverai subito magari non la troverai mai perché può capitare anche questo però questo non significa che non esista anche in quarantene vergine se trova la persona giusta vede tutte le paranoie che si faceva come fumo negli occhi una volta che sei felice con qualcuno e ti senti capito hai di nuovo 18 anni esperienza personale è buona esperienza positiva ma penso che davvero trovare una persona con gli stessi valori sia fondamentale su questo non vedo come come poterne uscire perché se tu ti forzi a fare sesso con delle persone che non hanno i tuoi valori inevitabilmente avrai paura di essere giudicato hai detto più volte che l'esperienza negativa può essere utile per imparare e sbattere la testa ma una serie di esperienze negative non innesca l'effetto opposto no se tu interpreti l'errore in maniera sempre di crescita nel senso i veri diciamo quelli che hanno successo nella vita sono inevitabilmente persone che hanno sbagliato tantissimo che hanno fallito tantissimo questo io non la voglio nemmeno spacciare come massima non mi piacciono le massime però mi sento di dire che è veramente l'approccio all'errore che fa la differenza è l'approccio al fallimento che fa la differenza la testardaggine la voglia di rivalso la motivazione va bene per me quello che ha fatto davvero la differenza nel mio grandissimo cambiamento personale quindi porto la mia esperienza è stata la voglia di rivalsa la voglia di non farmi distruggere da qualcosa di esterno a me ma di dimostrare che comunque con un certo tipo di mentalità che per forza non è quella comune perché non è per forza mainstream riesco a ottenere delle cose che invece pensavo impossibili da ottenere e questo lo si fa però bisogna trovare la motivazione bisogna trovare come si trova la motivazione qua andiamo sempre a scalare andiamo sempre più in basso e come si trova la motivazione è la domanda forse più difficile di tutte cioè se io non ho una motivazione per qualcosa come faccio a generarmela questo non mi sento di toccare l'argomento perché andiamo in un in una discussione eccessivamente astratta buonasera Marco secondo te esistono persone che restano volontariamente vergini per una sorta di ribellione a pressione e schemi sociali sì ma bisogna sempre capire se questo volontariamente vergine così come volontariamente isolato non sia semplicemente un meccanismo difensivo per evitare il problema cioè bisogna capire se quella volontà è veramente qualcosa che vuoi e quindi che non a cui che non ti pesa oppure se in realtà ti convinci di questo perché in qualche modo vuoi vuoi evitare il problema generalmente io non penso che una persona possa reprimere ed annullare completamente gli istinti sessuali così come non possa reprimere ed annullare completamente gli istinti sociali senza sviluppare psicopatologia questa è una non che non esistano gli assessuati ma gli assessuali scusate perché gli assessuati sono quelli che sono organi sessuali ma la repressione totale di un istinto a mio modo di vedere nella mia logica rischia spesso di portare a un a un riflesso incontrollabile dal punto di vista dell'inconscio cioè quando noi sotterriamo qualcosa nel nostro inconscio lo reprimiamo lo neghiamo rischia di controllarci senza che noi ce ne accorgiamo quindi non credo io personalmente possano esistere persone che si sentano soddisfatte della propria vita avendo represso un istinto completamente o un istinto primario intendo è un istinto di quelli appunto che abbiamo che abbiamo sviluppato in un'ottica di sopravvivenza se proprio la vergogna è insormontabile potete dirvi che tanto tempo non lo fate al termine di una relazione che vi ha colpito parecchio psicologicamente che poi è anche vero a me è capitato di stare tanto tempo senza avere rapporti sessuali dopo la fine di una relazione e di arrivare ad una relazione successiva quasi non dico che non mi ricordavo più come si facesse però insomma sicuramente molto più intimidito fino a che punto il sesso può inibire la mente e falsare il giudizio obiettivo nei riguardi dell'altra persona almeno nei primi tempi di frequentazione può inibriare scusa la mente e falsare il giudizio obiettivo nei riguardi dell'altra persona non lo so questa è una domanda difficile fino a che punto il sesso non penso sia nella mio modo di interpretare il sesso non è una non so se rispondo alla tua domanda ma è una cosa che ci tengo a dire spesso il sesso in una relazione viene visto come il punto di arrivo quindi c'è prima una fase interpretata come di conoscenza e poi dopo x frequentazione tempo di frequentazione di solito la ragazza si concede presumibilmente il maschio di solito lo vuole prima quindi si concede prima io non lo vedo così per me il sesso in un modo spontaneo assolutamente svincolato dagli aspetti culturali è un qualcosa che può fare benissimo parte di un processo di conoscenza quindi non il sesso come culmine di un processo di conoscenza ma il sesso come anche viatico di un processo di conoscenza quindi un qualcosa che sta all'interno di un processo di conoscenza e l'intimità tra due persone che vogliono stare insieme è fondamentale fondamentale quindi stare bene anche a livello intimo è fondamentale perché la relazione è dura questo non significa che la prima volta che si fa sesso è assolutamente soddisfacente deve essere soddisfacente per entrambe le parti ma semplicemente bisogna sentire un certo feeling corporeo sessuale che faccia in qualche modo stare bene entrambe le persone quindi vivere l'aspetto sessuale in modo positivo si può vivere senza sesso tanto esiste sempre la mano destra chi ti può vedere si può vivere sì però bisogna capire questa cosa ha delle ripercussioni soprattutto sul lungo termine sul tuo benessere psicofisico secondo me sì sicuramente fisico bisogna evitare assolutamente lungastinenze perché ormai è comprovato che le lungastinenze fanno male alla prostata e aumentano enormemente il rischio di tumore alla prostata senza volere fare allarmismi però insomma quindi questo va contro assolutamente l'autorotismo che predicava la chiesa cioè l'autorotismo è assolutamente consigliabile nel senso non è nulla di male ovviamente quello che è rischioso nell'autorotismo è l'abuso del porno finché non ci vai letto lo capirai se volevi solo quello se c'è di più gli asessuali tuttavia pare che non li reprimano li reprimono semplicemente non li provano quello degli asessuali è un tema interessante io non dico che non esistano gli asessuali dicono che dico secondo me che molti sessuali sono persone che lo si dichiarano perché o hanno avuto esperienze di sesso negative quindi non appaganti oppure perché non hanno non riescono ad affrontare il problema questo non significa così come i demi sessuali che come molti chikomori si definiscono cioè persone che sono attratte sessualmente dall'altra persona solamente in presenza di un forte legame emotivo io penso che esistano questi tipi di attrazioni sessuali o di non attrazioni sessuali ma credo siano molto minoritarie rispetto a quanti se ne dichiarino che fare quando la paura di rimanere incinta e mettere incinta ti inibisce qua si entra nel campo delle contraccezioni qua è un bel tema bisogna capire qual è la contraccezione che ti fa sentire più a tuo agio non lo so quale può essere il preservativo in effetti non è comodissimo però è ad oggi lo strumento più efficace in assoluto quindi bisogna sempre invitare l'utilizzo del preservativo però insomma esistono mezzi contraccettivi che possono prendere le donne non lo so la pillola che non si capisce ancora quanto male faccia quanto bene faccia su questo non sono particolarmente competente vi invito a magari chiederlo a un medico le pressioni sociali impongono il sesso è davvero devastante è vero è vero lo impongono lo impongono ma dobbiamo essere bravi noi ad accorgerci quando il sesso ci viene imposto dalle pressioni quindi riuscire a controllarle a non farci schiacciare quando invece il sesso è qualcosa di cui abbiamo voglia noi e ci fa piacere farlo il sesso che io consiglio di fare è solo quello che per quanto difficile perché comunque io stesso sono il primo a esserne vittima di questo tipo di tendenza al sesso per lo status bisognerebbe idealmente fare sesso solo per bisogno voglia volontà personale mai per innalzare la propria percezione di status sociale secondo te quanto i social l'aumento nel proprio istinto sessuale perché è impossibile che vedere continuamente foto di persone del sesso opposto e quindi possibili partner sessuali non influisca questo è un altro tema interessantissimo e l'ho provato soprattutto con Instagram io su Instagram c'è non so se intendevi proprio questo ma il fatto che su Instagram ci sia un incredibile numero di influencer modelle sempre in pose sessuali spinte più o meno spinte questo dà una sovricitazione costante all'uomo per cui si troverà costantemente eccitato senza avere la possibilità di sfogare questo istinto e io penso che questo sia deleterio quindi bisogna stare attenti come si utilizza nel porno anche come si utilizza quello che potremmo definire soft porn ovvero Instagram nella sua versione influencer modelle a me è sempre dato fastidio il preservativo soprattutto le prime volte ma obbligatorio per ovvie ragioni eh sì quello lo penso anch'io in effetti anche se stabilire quante persone effettivamente asessuali ci siano è impossibile è impossibile è difficile però è il mio pensiero è la mia sensazione off topic rimarrai per una live a settimana aumenterai il numero una live a settimana per adesso perché non ho la sicurezza di poterne garantire due e voglio comunque provare così anche per vedere come vanno vedo che comunque anche oggi ci sono una sessantina di persone quindi sono contento però vorrei per adesso provare a mantenere con serietà nel senso che vi garantisco che almeno una settimana ne faccio però per adesso una facebook è nato per quello per intendi per vedere le ragazze probabile per rimorchiare probabile alla fine tante le tecnologie che esistono oggi una su tutti lo streaming e youtube sono state trainate dall'industria del sesso in particolare dall'industria del porn e vogliono che diventiamo dei frustrati per poterci manipolare meglio non sono un complotto è questo un complotto perché quando usiamo la parola vogliono o è identificata qualcuno cioè se tu mi dici vogliono chi chi vuole questo allora io accetto questo discorso se tu mi dici un voglio generico io non lo posso accettare perché non basta nemmeno dire i poteri forti perché i poteri forti anche lì non so cosa siano quindi bisogna sempre capire chi le vuole le cose io spesso penso che tante cose che noi attribuiamo ai poteri forti sono non altro che meccanismi sociali che co-creiamo tutti e di cui tutti comunque siamo in parte più o meno corresponsabili quanto i messaggi sessuali proposti anche quelli inutili dei media aumentano il virgin shaming in chi non ha rapporti dal momento che fanno sembrare il sesso il bene facilmente reperibile da chiunque sì i messaggi sessuali alimentano sì assolutamente alimentano quest'ansia quest'ansia da prestazione perché ci fanno credere che il sesso debba essere qualcosa che si lega allo stato sociale quando in realtà il sesso dovrebbe essere qualcosa di assolutamente spontaneo e fatto senza sovracostruzioni culturali ma che ovviamente le sovracostruzioni culturali ci in qualche modo come dire guidano in tanti i nostri comportamenti non solo sesso un messaggio a tutti i ragazzi che sono cruciati per il fatto di non fare sesso di non avere una relazione fare sesso e non avere una relazione non vi renderà felici se la vostra vita fa già schifo questo vero mi dissocio dal fatto che la vita faccia schifo la vita fa schifo nell'interpretazione personale la vita non è né bella né brutta bisogna trovare semplicemente un'interpretazione personale che stia in un modo equilibrato quindi né eccessivamente come dire utopica e spensierata dalla vita né eccessivamente pessimistica la riscrivo per la terza volta spero che venga letta come si affronta un meccanismo inconscio di ansia e autosabotaggio sessuale allora se innanzitutto non si affronta nessun meccanismo inconscio perché l'inconscio è fuori dalla nostra attenzione cioè non possiamo accorgerci di un meccanismo inconscio quindi già se tu lo definisci inconscio è probabilmente perché ne sei diventato consapevole e nel momento in cui ne diventi consapevole è una domanda molto vaga quindi non posso darti una risposta chiara però secondo me qualunque ansia essendo l'ansia una paura perché l'ansia è non altro che una paura di qualcosa che deve accadere ma non è una paura a livelli come dire di attivazione come può essere il panico il panico è una paura intensa e quindi attiva il tuo corpo in una determinata maniera l'ansia è una paura in qualche modo flat potremmo definirla così essendo una paura l'unico modo per superare la paura è capire che quella paura non è reale nel caso spesso dell'ansia cioè non è una non è una cosa che meriterebbe la mia paura e l'unico modo per capire questa cosa è andarci cioè andare dentro quella paura è affrontarla non ce ne sono altri io non non vedo davvero come uno possa superare le paure senza affrontarle queste sono cose che a volte suonano banali e quindi sembra retorica però io penso che a volte nella banalità nella retorica ci sia anche e anche questa è retorica e banalità però ci siano delle cose sensate io penso che assolutamente la paura si combatte attraverso la ricerca di quelle situazioni che ci mettono paura se noi vogliamo affrontarle ma se le vogliamo sinceramente affrontare quindi non è che dobbiamo buttarci giù da un aeroplano perché abbiamo paura di buttarci giù perché per forza dobbiamo avere paura ma semplicemente se noi vogliamo avere un rapporto sessuale ma ci come dire evitiamo di metterci in situazioni in cui potremmo avere un rapporto sessuale perché abbiamo paura di fallire quella ovviamente è la condizione peggiore possibile perché evitiamo quella situazione allora noi cosa dovremmo fare idealmente metterci quella situazione arrivare a fallire fallire una volta fallire due volte tre volte quattro volte dieci volte cento volte finché il fallire non diventerà più una paura e sono sicuro che questa cosa è quasi automatica esiste la dipendenza da porno perché ha difficoltà nelle relazioni sarebbe utile smettere di vedere porno questa è una domanda che in realtà mi sto ponendo da tempo ma i porno sarebbe utile smettere di guardarli la dipendenza da porno esiste assolutamente è una delle dipendenze più comuni oggi è utile cioè i porno sono negativi di per sé io credo di no ma lo sono i porno che vengono che vengono trasmessi per mainstream cioè secondo me c'è tutta una categoria di porno dove le relazioni sessuali sono più reali cioè quindi più normali e dove non c'è per forza uno squilibrio di genere una violenza un possesso e credo che invece quel porno potrebbe essere potenzialmente come dire innocuo però non ne sono sicuro quindi prendete comunque questa cosa con le pinze penso che gli incel andiamo a inchiusura perché voglio tenere le live di un'ora e mezza circa anche se vedo che l'argomento vi interessa quindi un'ora e mezza non basta però insomma voglio finire intorno alle 23.30 penso che gli incel siano la manifestazione occidentale della stessa paura dei fondamentalisti islamici vorrebbero le donne completamente dominate nel privato e nel sociale ma non lo so secondo me l'incel di per sé è una persona che fa fatica a trovare partner e questo poi dà adito a tutta una serie di colpevolizzazioni che spesso sono esterne quindi attribuite ad altri non a se stessi e se per qualcuno l'autorealizzazione sia sinonimo di appagamento sessuale per te sono due cose diverse e di diversa importanza ma trovo sbagliato affermare ciò in modo assolutista l'autorealizzazione è un qualcosa che dipende dalla nostra visione della realtà l'autorealizzazione non è mai in qualche modo slegata da come noi interpretiamo l'esistenza quindi se nel nostro progetto di autorealizzazione c'è l'appagamento sessuale e secondo me ha senso le due cose possono in qualche modo collimare non ci sarà mai solo l'appagamento sessuale nell'autorealizzazione ma l'appagamento sessuale o comunque secondo me una cosa positiva da mettere all'interno dei propri progetti di autorealizzazione è non tanto l'appagamento sessuale da un punto di vista di istinto ma la volontà la voglia di vivere bene il sesso ecco io per esempio sono stato uno che nella mia vita mi sono accorto a un certo punto che non ho mai vissuto veramente bene il sesso l'ho sempre vissuto con dell'ansia e quindi uno dei miei obiettivi per esempio è quello di viverlo meglio cioè di riuscire a godermi di più l'aspetto sessuale a godermelo di più anche nel rispetto delle altre persone e quindi questo è un mio obiettivo sto cercando di lavorare in questo senso con sicuramente delle difficoltà come tutti ma insomma ci provo almeno cerco di in qualche modo di migliorarmi che si fanno sesso rispetto a prima mi sto perdendo un attimo ci saranno live sul complottismo negli kikomori all'inizio di welcome to NHK il problema viene mostrato le live le decidete voi sostanzialmente in maniera democratica potete propormi nella sezione community sotto il sondaggio della volta precedente quali sono gli argomenti che vorreste inserire nel sondaggio successivo e io prenderò i 5 argomenti che mi piacciono di più anche in base al mio interesse in base a quello che io penso siano le mie competenze perché non è che sono un tuttologo quindi mi esprimo anche spesso su cose su cui io ho ragionato molto su cui io ho riflettuto molto quindi magari ho più argomenti ma poi deciderete voi hai totalmente ragione sul porno mainstream l'amatoriale è tutta un'altra storia lo preferisco proprio come il mio gusto personale attenzione però il porno amatoriale a volte ricalca il porno mainstream proprio perché chi fa porno amatoriale magari lo imita nella sua dinamica l'autorealizzazione nel fare sesso avere relazioni c'è solo se si vuole fare una famiglia se uno la fa così tanto per piacere di scopare non si autorealizza è una bella esperienza ma una volta no io penso che l'autorealizzazione nel sesso non deve essere né la quantità di sesso né il numero di partner ma deve essere riuscire a vivere il sesso bene che è una cosa difficile oggi vivere il sesso bene viverlo bene per se stessi per l'altra persona parlarsi nel sesso una cosa che spesso non si fa anche per tabù e dirsi cosa piace si piace cosa non si piace con la partner perché magari si fa una cosa che la partner non piace o la partner fa qualcosa che te non piace questo magari rovinare la reazione invece bisognerebbe parlarne spesso io sono uscito in passato da alcune mie paure sociali affrontandoli in modo molto graduale passo per passo abituandomi piano piano sono d'accordo si l'affrontare una paura non è necessariamente e anzi forse è da sconsigliare quella di buttarci si dentro che è una terapia d'urto che potrebbe avere delle ripercussioni negative ma cercare di spingere il proprio livello di competenza sempre un po' più in alto un po' più in alto come si fa con un'asticella quando un salto in alto un saltatore in alto vuole battere un record non è che piglia l'asticella la butta un metro sopra la sua testa e la salta la mette piano piano sempre più in alto e questo lo porta a migliorarsi perché ogni volta ha la percezione che l'asticella sia poco più alta del salto precedente quindi basta un piccolo sforzo per saltarla stessa cosa deve essere fatto esattamente come l'allenamento fisico e vi invito a pensare alla mente e al vostro comportamento esattamente in un'ottica di allenamento fisico cioè di allenare le vostre competenze quindi mettervi in situazione di poter imparare dalle situazioni sociali dall'esperienza esattamente come se io voglio vincere una corsa mi devo mettere a correre perché se sto tutto il giorno sul divano io la corsa non la vincerò mai se noi vogliamo diventare che ne so bravi e disinibiti nel sesso dobbiamo inevitabilmente iniziare a fare dei passi in questa direzione e il primo passo può essere banalmente parlare anche solo via chat con delle ragazze scioglierci un po' e poi piano piano aumentare che ne so con un bacio e tutto deve essere fatto gradualmente non si può sperare di avere soluzioni facili anche la prostituzione attenzione la prostituzione rischia di diventare un rischia di diventare un grande peso poi perché rischia di diventare un qualcosa che aggira il problema ma non lo affronta e quindi a un certo punto diventa più deleterio che altro è un po' come secondo me la prostituzione è un po' come chi usa la droga per essere felice si può usare la prostituzione magari in determinati momenti per carità io non sono bigotto e non penso che la prostituzione sia un male ma non deve mai essere vissuta come una soluzione a lungo termine così esattamente come lo psicofarmaco non deve essere vissuto come una soluzione a lungo termine ma in taluna occasioni potrebbe essere anche consigliabile è difficile parlarsi durante il sesso almeno per me ma non è necessario durante il sesso può essere anche dopo riuscire a comunicare anche quelle che sono le proprie preferenze io la prossima live opterei per il lavoro più precisamente come po' uniche comore persone ok il lavoro è una tematica che mi sembra che vi avete già proposto la inserirò giuro nel prossimo sondaggio grazie per la live tutti i consigli soprattutto questo finale credo possa essere molto di aiuto grazie a voi sono le 20.30 e insomma anche in questo caso abbiamo spaziato temi molto scottanti difficili probabilmente in alcuni casi avrò detto anche delle cavolate penso comunque che al di là che io dico una cosa giusta o sbagliata queste live sono utili per riflettere per riflettere poi ognuno prenderà le informazioni e si farà la sua idea però intanto abbiamo passato un'ora e mezza a riflettere su un tema che magari su cui magari spesso si riflette poco e questo lo porta ad essere anche più complesso quindi grazie ci rivediamo lunedì prossimo e assolutamente vi ringrazio ancora davvero perché sono sempre molti spunti interessanti fate sempre devo dire comunque delle domande pertinenti quindi vi ringrazio per essere stati nel mood della live a presto grazie a tutti